Per la categoria Web Strategy io chiamerei a consegnare il premio Filippo Tramelli, Digital Strategist, responsabile formazione, primo piano. Buonasera a tutti, grazie. Salve, cosa fa il Digital Strategist? Si occupa di strategie digitali per aziende. Quindi? Quindi social network, social media management, web marketing, brand journalism. Formazione primo piano è l'azienda? Sì, una cooperativa giornalistica che si occupa anche di formazione oltre che di contenuti. Perfetto, mi fa molto piacere. Perché anche il mio service video si chiama Primo Piano e volevo vedere chi aveva fregato l'uno all'altro. Diritto d'autore. Benissimo. Pensi che il suo premio lei lo consegnerà al punto vendita, premio Web Strategy, 4Build di San Donato Milanese questa volta. Quindi ancora 4Build, però altra collocazione. Eccoli qua. È là. È un team. Uno squadrone. Bene. Molto piacere. Abbiamo parlato di empatia, non me lo dica, non me lo dica, dovrebbe essere lei Alberto Birolini. Nemmeno, nemmeno. Cioè, hanno mandato tutta l'azienda, l'unico che doveva venire, non c'è. Giusto, fate pure un passo avanti. Benissimo. Ecco, posso sapere i vostri ruoli nell'azienda? Siamo in referenti commerciali. Le do i microfoni. Come si chiama? Lei voglio spendere il suo nome? Francesco. Bene. Nadia. Alessandra. Referenti commerciali. Siete venuti in tre, giusto? Però noi avevamo previsto un coperto per voi, quindi cercate di essere continenti nel momento del buffet, perché andremo a togliere del cibo a qualcun altro, se no, va bene? Questo lo diamo al centro. Lo diamo al centro. Chi c'è in azienda da più tempo? Io. Lei? Da quanti anni c'è lei in azienda? Dal 2011, sei anni. L'ha fondata l'azienda perché vedo anno di fondazione 2011. Ora io vi dico, con la conferma sua, che lei è strategista, perché gli abbiamo dato questo premio. Premio per l'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera creativa per accrescere la competitività del punto vendita. Chi di voi idea le cose digitali, le strategie? Nessuno di voi c'è un uomo preposto. Io vi potrei suggerire un'azienda, si chiama Primo Piano, sono bravissimi e costano poco. Bene. Una bella... Ok, una delle tue. Ok. Bene. Ok, grazie ragazzi, davvero.